Permettetemi di farla per rispondere al leader della Lega Salvini. Non faccio mai queste cose dirette, ma credo sia opportuna, perché vedo delle agenzie che con la solita ironia che gli è nota che non fa ridere nessuno, si è permesso di commentare questi nostri lavori, ironizzando sul fatto che mentre l'Italia è preoccupata del coronavirus noi parleremmo solo dei suoi decreti propaganda. Ora vorrei dire, io sono, a seguito del ruolo istituzionale che ricopro anche di presidente di una regione, tra le persone e tra le autorità italiane che per prime furono avvertite il giorno dell'individuazione dei primi due casi cinesi in un albergo romano ad interessarsi con una team e con una squadra eccezionale del sistema sanitario regionale dell'Istituto Spallanzani, tra le prime persone che, posso dire, tutti i giorni si sta ovviamente e giustamente e senza fare scelte teatrali che piacciono ad altri, occupando di questo grave fenomeno del coronavirus. Per garantire sicurezza, per garantire che la scienza faccia il suo corso, per seguire pazienti, molti dei quali questa mattina stessa, come ho detto nella relazione, sono usciti dall'Istituto Spallanzani e il rapporto strettissimo con il Presidente del Consiglio, con il Ministero della Salute, con il Ministro, con tutte le organizzazioni sanitarie, anche internazionali, stiamo seguendo lo sviluppo di questa vicenda. E così faremo anche come Partito Democratico. Non ci sfugge che siamo in un passaggio delicatissimo della vita, della tenuta del sistema Italia, nel quale bisognerà spingere per portare al massimo l'allerta e i provvedimenti, senza che questo generi alcuna forma di panico o di allarmismo non dovuto. La situazione è grave, anzi, mi scuso se subito dopo questo intervento lascerò la sala, ma appunto è convocato fra pochi minuti una riunione della Protezione Civile Nazionale, dove stiamo monitorando questo tema. E quindi è chiaro che anche la nostra agenda dovrà tenere in considerazione gli sviluppi di questa crisi che il Governo italiano sta affrontando al meglio, grazie alla grande forza della scienza che ci sta dando una mano. Quindi io vorrei dire che chi di fronte a un tema così enorme come quello del dovere etico e morale per una comunità civile di rassicurare i propri cittadini e di dare ai cittadini delle certezze e delle sicurezze, che si preoccupa in maniera furbesca e meschina di fare polemica politica, in realtà conferma solo una cosa, della quale ne eravamo già convinti, ma con queste battute appunto che non fanno ridere è solo un'ennesima conferma, che stiamo parlando di un leader che non è adeguato anche solo a teorizzare possa prendere in mano le redini di un grande paese come l'Italia e che si vergogni, perché quello di cui noi abbiamo bisogno in questo momento è serietà, unità, anche duro scontro politico, ma che non travalichi mai, ripeto, la strumentalità con la quale si affrontano questi temi e i democratici e le democratiche, gli amministratori del nostro partito già sono molti impegnati, ma saranno gomito a gomito con gli amministratori di tutte le forze politiche uniti per affrontare al meglio questa vicenda del coronavirus, lasciando distanti miliardi di chilometri polemiche che non avrebbero assolutamente senso.